Sicuramente vincere questa partita in trasferta per noi è stato molto importante per dar fiducia all'ambiente, a tutti i giocatori e avere la consapevolezza che puoi fare dei risultati anche fuori treviso. United Rugby Championship, buona la prima, partenza con il piede giusto per il Benetton che dopo la vittoria a Cardiff guarda le prossime sfide che vedranno impegnati i Leoni in casa per tre weekend consecutivi. Siamo partiti col piede giusto e adesso ci attende tre partite di fila in casa partendo da domenica con il Manchester, la squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso e poi a seguire due squadre sudafricane, il Lions e Storm, squadre di alta carattura, squadre a livello mondiale anche loro e quindi noi dovremo trovarci pronti. Nel frattempo la società oltre che sulla squadra sta lavorando molto per risaldare il rapporto con il pubblico e la città di Treviso e far sì che il pomeriggio allo stadio diventi un momento di divertimento non solo sportivo. Stiamo anche lì facendo un certo tipo di lavoro a livello societario nel riuscire a portare allo stadio tutto quel pubblico, tutte quelle persone che possono venire per potersi divertire. Già l'anno scorso abbiamo terminato un campionato con 3.800 persone di media allo stadio, quest'anno abbiamo l'ambizione di voler fare cose più importanti, certo il nostro obiettivo è di arrivare al sold out tutte le partite, l'anno scorso l'abbiamo fatto due o tre volte, quest'anno vorremmo farlo molto di più.